Come state? Ben ritrovati amici di Milanello? Mi raccomando se non siete ancora amici di Ventato iscrivetevi qui, attivate la campanella. Come dico sempre, scherzosamente, ma non troppo chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano. Vediamo quanti rossoneri dietro questo schermo ora si iscrivono cliccando, pigiando sul logo di Milanello, attivando la campanella. Ovviamente è gratuito, mi raccomando. Vediamo oggi, li contiamo tutti i nuovi. Lasciate un bel like, commentate numerosi. Oggi è giornata senza le partite dei mondiali e ci sono un po' di novità. Intanto nel video di questa mattina abbiamo parlato di Leao dopo il gol di ieri, un gol ogni 33 minuti, poi un video dedicato al mercato tra anche sogni e realtà. Vi ho parlato insomma di alcuni miei sogni, ma non soltanto miei. Vi rimando a quel video se non avete ancora fatto, se non avete ancora visto. Ma ora approfondiamo invece una serie di questioni con novità importanti. Intanto una curiosità, dal report di Google sul 2022 che sta per concludersi, in Italia una delle frasi più cercate è Pioli is on fire. È fantastico, mi fa sorridere, è bello, è una colonna sonora che è diventata un po' anche in tutte le discoteche. L'altro giorno alla festa di Milanello ci siamo divertiti due o tre volte a cantarla tutti insieme, si è scatenata la sala e il locale, è stato molto divertente. Dopodiché, una cosa che mi fa un po' arrabbiare, un po' tanto ecco, perché noi siamo i primi a essere delusi su quanto di buono non si è riuscito oggi a fare ancora charde che telare, però ecco, mediamente non tutti, ma mediamente siamo in tanti ancora ovviamente ad aspettarlo, a capire, a comprendere le difficoltà naturali di un ragazzo di 21 anni che è arrivato da un altro mondo calcistico in un'altra città, con un'altra cultura, con altri compagni, un altro allenatore, un altro credo calcistico e quindi non sta facendo bene. Ovviamente speravamo tutti oggi di commentare un giocatore che è arrivato, ha avuto un approccio clamoroso come è successo ad esempio con Varascheia nel Napoli, non è così, ma non buttiamo a mare un investimento, non lo fa soprattutto il Milan, un investimento su un giocatore che va aspettato. Ora oggi la gazzetta, secondo me in maniera, come dire, in maniera poco rispettosa, sto pensando le parole in maniera un po' volgare se vogliamo, in maniera scandalosa, scrive CDK così perdi il Milan. Ora, come se avesse giocato ieri e avesse fatto male ieri una partita, CDK non gioca nel Milan ormai da un mesetto, uscire così sembra che sia successo qualcosa. soprattutto è poco rispettoso di una storia che ci sta, di un ragazzo, ripeto, che è giovane, non è bello, non dico che ovviamente la stampa non deve aiutare, per carità, ognuno fa il proprio lavoro. Però CDK così perdi il Milan mi sembra sinceramente un po' troppo, non è che il Milan lo può perdere dopo neanche sei mesi. Il campionato è iniziato dopo tre mesi di campionato e di Champions in cui lui ha giocato complessivamente qualcosa come 8-9 partite intere. Lo perdi dopo 8-9 partite intere? No. Capisco che sia necessario fare un titolo a effetto, in questo caso però secondo me sia andato un po' oltre. Il Milan aspetta CDK, il Milan lo aspetta e CDK De Ketelare non perde il Milan. Il Milan lotterà per tutta la stagione, ma anche per la prossima. Chiaramente così non si fa bene del ragazzo, capisco che l'obiettivo sia un altro, giustamente dal loro punto di vista, però noi siamo qui per dire che De Ketelare lo si aspetta, anche se qualcuno di voi lo ha già bollato come Brocco eccetera eccetera. Magari ecco certi titoli sarebbero stati più azzeccati su Lukaku ad esempio, perché Lukaku è un giocatore in prestito e così si perde l'Inter lui facendo pena. De Ketelare è un giocatore del Milan, la situazione è diversa, sarebbe stato più adatto ripeto al belga dell'Inter non a belga del Milan, che ovviamente deve svoltare, questo ce lo auguriamo e ce lo aspettiamo tutti. Non mi sembra appunto un buon servizio questo. Dopodiché, mentre mi si blocca il computer, anche questo per la rabbia, follia secondo me di scrivere una roba del genere, follia anche che oggi vediamo commentare un trasferimento prossimo di 72 milioni di euro, ripeto 72 milioni di euro, facciamo un attimo un blitz fuori da casa Milan e poi ci rientriamo, per un giocatore di 16 anni. Hendrik, brasiliano, per carità, viene considerato un grande talento, fortissimo, giocatore che sicuramente scriverà pagine importanti, però il Real Madrid va a spendere 72 milioni di euro per un ragazzo che calcisticamente parlando puzza ancora di latte, scusate l'espressione, ma credo che renda molto bene l'idea. E questa è una cosa che mi fa un po' arrabbiare per l'opportunità di un simile investimento, ma anche per le difficoltà che ovviamente noi incontriamo ogni giorno di più. Non avendo lo stadio, queste sono poi le situazioni che si creano. Chi ha lo stadio poi aumenta sempre di più il fatturato, poi Real Madrid appartiene a una galassia da questo punto di vista decisamente diversa. Contesto, spendere così tanti soldi per un 16 anni secondo me è fuori da ogni logica. Dall'altra parte perdiamo sempre più terreno, perdiamo sempre più tempo. Senza lo stadio questi vanno, spendono 70 milioni così per un 16enne. Ragazzi, questa è una cosa che davvero mi fa molto arrabbiare. Dopodiché potrebbe firmare addirittura un biennale Giroud, non più magari un anno solo di contratto, ma potrebbe spuntare un biennale, magari un'opzione, lui vorrebbe un biennale, vuole arrivare a giocare come Ibra per diversi anni e credo che non ci saranno problemi rispetto a rinnovo qualcuno, ipotizzato cifre superiori rispetto ai tre e due attuali, non credo che lui chiederà un aumento, anche se sta facendo qualcosa di clamoroso. Pensate, una media di un gol ogni 120 minuti nel 2022, media stratosferica che credo abbiano pochi in circolazione, considerando ovviamente anche il Milan, il club, ma anche la sua nazionale. Dopodiché, ragazzi, domani ricordiamo la sgambata sul campo di Milanello alle 14.30 contro Lumezzane, si torna insomma a far girare il pallone anche in campo. C'è una novità importante perché nei giorni scorsi c'è stato a casa Milan Ted Dinvula, che è l'agente di Leao, ufficialmente, di fatto, per siglare il rinnovo di Victor Eletu, che è un classe 2005 che gioca nella primavera del Milan un mediano e nigeriano a 17 anni, rinnova il suo contratto fino al 2025, ma chiaramente insomma questo ci dice che hanno parlato ovviamente di Leao, quando Pioli dice che stanno parlando aspettiamo buone notizie. Questo rinnovo, vi farò vedere anche la foto poi di Eletu, ci fa capire che ci sono ottimi rapporti, che stanno crescendo, stanno nascendo con il suo agente, che può essere anche un piacere fatto per allargare il discorso, che è già piuttosto allargato, con un significativo aumento delle speranze, possibilità del Milan di arrivare a questo rinnovo del contratto con Rafa Leao, tutto lascia intendere che si arriverà a questo rinnovo. Ripeto, significativo questo incontro non tanto per il rinnovo di questo ragazzo al quale auguriamo ogni bene, ma per il fatto che Ted Dinvula sia tornato a casa Milan e ovviamente si è parlato di Rafa Leao e questo rinnovo, secondo me, di questo ragazzo fa capire che comunque stanno dialogando positivamente su più fronti, quello che più interessa al Milan, ovviamente ai milanisti, è chiaramente quello di Rafa Leao. Dopodiché sto pensando se mi manca qualcosina nei discorsi di oggi, fatemi ragionare, si allarga il discorso invece Juventus, lo vedete ogni giorno emerge qualcosa di più, possibilità di esclusione dalle coppe che potrebbe creare una sorta di fuggi fuggi, vediamo. C'era un'altra cosa che vi volevo dire ragazzi, cos'è che vi volevo dire? La vecchiaia, questa è la vecchiaia, c'era un appunto di mercato, ah un'altra cosa perché ormai adesso non andate dietro né a Vlaovic come dicevo ieri ma neanche a Milinkovic Savic e distinguete le fonti, è difficile trattare calcio a mercato, è difficile anche per gli addetti ai lavori, per i giornalisti professionisti, distinguete i siti dove leggete le notizie. Facebook non è una testata giornalistica, anche altre che riportano, insomma, distinguete e non andate dietro la qualunque, ecco. Milinkovic Savic fake news purtroppo, Vlaovic fake news purtroppo. Iscrivetevi mi raccomando, ditemi cosa ne pensate su tutto quello che abbiamo raccontato in questo video, iscrivetevi numerosi in questa zona, mi raccomando, vediamo quanti nuovi rossoneri, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano, se volete fare un giro per un regalo di Natale a voi e a vostri amici, per le felpe di Milano c'è anche la versione cappuccio per grandi e piccini, milanelo.com vi metto qui sotto il link. Vi rimando al video precedente sul sogno mercato, comunque è significativa la presenza di Ted e di Mboula, retroscena molto importante a casa Milano. Ciao ragazzi, forza vino oggi più che mai, domani ancora di più, commentate numerosi mi raccomando e a prestissimo, ciao!